CONDIVIDO L'OPINIONE DEGLI ANTICHI Condivido l'opinione degli antichi nel loro sentire che vivere non è necessario. Ti piace veramente? È bellissimo. Sì, te lo regano. Cos'è la tua macchina che io non ho? Non è malandata. E non si lamenta. Perciò non lo penso come vissuto se non l'ho scritto. Rosario Castellanos Voglio starti sempre vicino. Non credo che tu debba scegliere tra la vita e la scrittura. Io voglio scrivere. Dal momento che devo vivere perlomeno cerco di sfruttare questa opportunità scrivendo. Sono le tre del mattino per stare qui. Mi vedi o non mi vedi? In questo schifo di Tuxtla Gutiérrez sono venuto fino al quinto inferno per poter stare con te! Per questo ti senti sola. Sai solo stare dentro la tua testa. Grazie! Grazie! Non mi vedi vorrei ieri.